Torno purtroppo a ribadire nuovamente che ad oggi non abbiamo ancora un campo per le nostre squadre giovanili. Quando voi sapete tutti, e mi ripeto per l'ennesima volta, che a giugno dell'anno scorso mi si assicurava che entro fine del mese di settembre 2019 sarebbe stato predisposto un bando con aggiudicazione dell'assegnazione. Quel bando dopo un anno non è stato ancora partorito e noi con il settore giovanile in espansione, la crescita, in espansione e in crescita, siamo ancora senza una struttura idonea. Questo mi rammarica, mi duole perché sinceramente la nostra amministrazione e il nostro sindaco in particolare è molto bravo a parlare, però fa seguire pochi fatti. Io questo lo dico apertamente, non ho paura, non ho temo, non ho nulla da nascondere, però purtroppo oggi o si fanno i fatti oppure le cose non si fanno. Stante queste condizioni io proprio non farò più niente, è diverso, è proprio diverso. Non è un progetto che si sposta di un anno. Se non cambia questo territorio, se non cambiano queste istituzioni a promettere a non fare, qui dentro io non farò più niente. ma è pacifico, è pacifico. Sarei un idiota se facessi qualcosa, un idiota. Ma se non riesco ad avere un semplice campo dell'acqua viva, non che me lo devono dare perché io sto chiedendo di fare un bando perché nessuno ha chiesto gratis qualcosa, allora il problema non può essere. È normale che io se sto continuando ci sarà un momento in cui arriveranno le cose che si fermeranno. Sarà naturale la logica a fermarsi. Non è che qui c'è qualcuno che continua ad andare avanti, a buttare soldi perché c'è qualcuno che continua a promettere nel tempo e a non fare le cose. Dovrò sicuramente ridimensionare qualcosa, ma naturalmente noi non siamo nella fase della svendita, noi non svendiamo nulla, noi vendiamo. Quindi se ci sono delle richieste interessanti per qualche giocatore vuol dire che per noi questa sarà un'occasione per dimostrare che abbiamo lavorato bene, perché se vendiamo qualche giocatore dalla nostra categoria a una categoria superiore vuol dire che chi ha lavorato, ha lavorato bene. So qual è la domanda, vi dico subito, non mi chiedete dell'allenatore perché non mi rispondo. Anzi però vi faccio un'altra cosa, vi do cinque nomi. In questi cinque nomi forse c'è l'allenatore. Di Donato, Grassadonia, Coppitelli, Turrini e Moriero. I gironi noi sulla carta purtroppo per la deficienza delle squadre del sud, deficienza nel senso di mancanza, dovremmo dovremmo, se si rispettano i criteri dello scorso anno, essere nel girone C. Però questo non è detto perché comunque sembrerebbe che si possano adottare anche altre formule, noi ce lo aspettiamo, però questo non dipende da me, purtroppo questo dipenderà dal consiglio direttivo di Lega che si terrà la prossima settimana, dove si metteranno delle basi, poi dovremmo aspettare anche quello che accadrà il 31 agosto alla commissione di deferimento per quanto riguarda le due squadre sempre coinvolte, come sapete benissimo mi sembra Bitonto e Picerno.